A partire da Imperia, tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi. Ventilazione debolo, assente, temperature di orne piacevoli attorno ai 16-17 gradi, clima ancora un po' più fresco nella notte e all'alba. Anche su Savona splendera il sole, vi saranno estesi rasserenamenti sul territorio, la ventilazione sarà debole a regime di brezza lungo il tratto costiero, le temperature massime piacevoli saranno prossime ai 16-17 gradi. Anche su Genova il tempo sarà stabile, assolato, una situazione meteo buona tranquilla grazie all'alta pressione. Il clima sarà mite nelle ore pomeridiane, con punte massime vicine ai 16-17 gradi. Anche sul Tigulio, tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature massime piacevoli nelle ore pomeridiane, un pochino più fresco il clima ancora nella notte e al primo mattino. Ebbene, anche sullo spezzino il sole sarà prevalente sul territorio, la ventilazione sarà debole. Le temperature massime qui saranno un pochino più contenute, ma comunque su valori gradevoli attorno ai 15-16 gradi. Poi ci attenderò un martedì con tempo stabile e assolato. Un pochino più di nubi sul territorio, innocue di passaggio ma di poco conto. Non daranno infatti luogo a conseguenti effetti. Poche le variazioni termiche. Con questo per il momento è tutto. Dettagli maggiori come sempre vi attendono sull'app di Trebi Meteo. Grazie a tutti.